Arrivati al nono incontro di questi 12 previsti, edizione numero 14 del Fighting Day. Semifinale Elite K1, meno 75 kg, tre round da tre minuti. A premiare sarà proprio il maestro Matteo Valentini, nonché l'organizzatore di questo splendido show. All'angolo rosso, dal Pro Fighting Rimini, Bruno Franchi! All'angolo blu, dal Pro Fighting Rimini, Bruno Franchi! Francesco de Amer Palermo! All'angolo papi! All'angolo drago! No, no, no No, no, no Per Francesco Palermo 46 match, 39 vittorie 6 per Capò, 6 scompite 1 pari, Lurie, campione italiano Queimani 1 pari, Lurie, campione italiano 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 2 pari, Lurie, campione italiano Noi minuti, Bruno. 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 No 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 minuti, Bruno. E' il secondo round, super combattuto, la semifinale è in K1. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.